buongiorno eccoci qua in diretta sulla zuppa di porro del 3 settembre siamo ritornati a roma al lavoro si parte con il 17 lunedì 17 quarta repubblica la programma di prima serata di rete 4 fantastico perché tutti quanti pensano che adesso sarà sarà un programma completamente diverso rispetto a quello che dicono le zuppe quello che ho sempre detto a matrix e prima ancora su virus fantastico no soltanto perché sto sulla nuova rete 4 che mi sembra che a qualche cretino qua attribuisce a me una volontà che non so che sia se sia veramente anche di rete 4 la lasciamo perdere l'altra questione è che il giorno dopo partirà anche matrix 15 17 18 avremo sia quarta repubblica sia matrix finite le comunicazioni di servizio andiamo alla grande a vedere quello che è successo oggi sui giornali tria cerca la sponda di conte tria il ministro dell'economia la sponda di conte sarebbe la sponda del presidente del consiglio che dovrebbe dargli una mano per non fare troppi casini e pasticci o contenere le velleità di spesa dei suoi ministri questa è l'idea del titolo del corriere della sera che dice che il dato fondamentale lo avremo fra poche settimane perché in realtà si capirà cosa vuol fare il governo dalla nota aggiornata del documento di economia e finanza che dovrà essere presentata il 28 settembre si tratta di una tecnicality di una tecnicalità ma la sostanza è che ci dovranno dare i grandi numeri poi dopo i dettagli li vedremo con la legge finanziaria ma ce lo dovranno dare a fine settembre sostanzialmente ci diranno quanto e come sfonderanno il deficit del 3 per cento secondo quello che dice salvini ieri ad alzano milanese dove sono stato io il giorno prima lui è stato intervistato ieri da giordano rispetto diciamo al popolo bergamasco e che cosa ha detto ma guardate sfioreremo il 3 per cento ma sotto sostanzialmente anche salvini conferma dunque che non verrà cambiato il parametro di master non verrà sfondato anche se ovviamente questo non piacerà alla unione europea perché ci vorrebbe addirittura sotto al 2 il motivo che loro di loro sempre dicono perché avete tanti di quei debiti per cui dovete essere più virtuosi degli altri in realtà questo un po confligge con quello che ha detto ieri invece di maio perché ha detto subito nel 2019 il reddito di cittadinanza c'è su tutti i giornali e qualcuno gli fa notare che aveva detto che prima si sarebbe dovuto procedere alla revisione dei centri per l'impiego perché se tu dai un reddito di cittadinanza e non controlli bene che questi accettino i famosi tre mestieri altra grande impalcatura ridicola ma comunque insomma nel reddito di cittadinanza almeno ci deve essere un controllo che tu non stai a casa sul divano come dice sempre di maio se non riformi prima i centri dell'impiego loro stessi ci dicono non diamo il reddito di cittadinanza evidentemente hanno cambiato idea l'altra cosa che dice che una frase ad effetto di maio ieri tra le agenzie di rating e i cittadini scelgo i cittadini io vorrei sapere chi tra le persone normali nel mondo può non scegliere tra un'entità giuridica inesistente un sindacato un partito e i cittadini che lo compongono è evidente lo diceva la thatcher non esistono i sindacati esistono i lavoratori non esistono voglio dire le società esistono i cittadini quindi io sono perfettamente d'accordo che noi dobbiamo e non possiamo che stare con i cittadini il punto è un altro non è stare con i cittadini oppure stare con i cittadini ma non raccontarli la balla che se aumentano i tassi di interesse sul debito pubblico questo è un problema non è un problema il problema c'è perché vuol dire pagare più tasse e quindi anche avere una ridotta ripresa economica ma questo dipende soltanto dal Movimento 5 Stelle secondo Cottarelli intervistato dal Corriere della Sera il debito pubblico secondo i calcoli che lui ha fatto con l'università cattolica nel 2019 ci costerà 5 miliardi di euro in più ma questi 5 miliardi di euro in più derivano veramente soltanto dal comportamento del Movimento 5 Stelle dalle dichiarazioni da tutte le cose che abbiamo detto sapete bene quanto io non ami ad esempio il decreto dignità e qui però c'è un piccolo equivoco che io vorrei svelare e che per il quale io non condivido completamente l'analisi di Cottarelli che Ampasson dice che costerà 75 miliardi fare reggici di tendenza flat tax e superamento della Fornero e la cosa più cara sarà la flat tax ma comunque lui diceva costeranno 5 miliardi di più gli interessi in intervista del Corriere della Sera allora io faccio una domanda a Cottarelli come tutti quelli che stanno qua dicendo che i tassi di interesse e lo spread ci ucciderà cosa che peraltro è vera ma ragazzi non lo sapevamo forse un anno e mezzo fa che sarebbe finita la politica di quantitative easing della banca centrale europea è questo il problema potrebbe anche esserci mandracche a governarci ma se la politica della banca centrale diventa non più di acquisto dei titoli di stato italiani come di tutta Europa è evidente che aumenteranno i tassi di interesse il costo per il debito pubblico ci arriva anche un bambino sono aumentati i tassi in america sta aumentando l'inflazione in Europa stanno diminuendo gli acquisti dei titoli di stato quindi ci poteva essere come vi voglio dire il fenomeno in Italia ma i tassi di interesse sarebbero comunque aumentati ed è evidente che aumentano più in Italia che nel resto dell'Europa per il banale motivo che in Italia abbiamo un debito incontrollato non so se incontrollabile questa è la piccola obiezione logica che io faccio a Cottarelli anche perché come ci ricorda il caso Monti Monti non riesce mica ad abbassare lo spread amici miei rispetto ai 500 a cui l'aveva lasciato il governo Berlusconi in quell'estate 2011 il vero artefice dell'abbassamento dello spread è proprio Draghi che inizia a dire facciamo il quantitative easing e whatever it takes cioè tutto ciò che serve per salvare l'euro e i tassi in Italia chiaro? Augg, Giorgio ti ho sentito anche se qui con questa nuova telecamera arriva un po' in ritardo il vostro commento. L'altra grande notizia di giornata sono i famesi e quello che sta succedendo a Tripoli e qui vi dico la verità il pezzo più bello lo fa Alessandro Orsini oggi perché inquadra il motivo per il quale noi dovremmo occuparci molto di più di Tripoli perché dice che se l'Italia perde la Libia non so se l'ha già persa questa è una battuta che non gli ho fatto e che mi verrebbe da fare perde quanto ha di più fruttuoso nell'area internazionale nell'arena internazionale dice tutti i paesi ricchi hanno delle influenze su paesi meno ricchi e il fatto cioè è una roba muscolare quella di Orsini vera la capisce anche un bambino è un pezzo scritto bene e chiarissimo sul messaggero di oggi se l'Italia perde la Libia perde un'influenza l'unica poca influenza che c'ha nei confronti di un paese che non sarà ricco ma che tutti quanti i paesi grandi hanno come possiamo dire una sorta di protettorato e lì il problema lo spiega benissimo Battistini oggi sul Corriere della Sera vi è un problema di questo tipo in parte che nessuno parla della cronaca cioè di quello che sta succedendo e non voglio fare lo stesso errore io ve l'ho recuperata la cronaca ed è molto banale e cioè che Serrai che è il capo riconosciuto di Tripoli da parte dell'ONU quello che piace agli italiani bene è in contrasto col generale Aftar uno controlla la tripolitana Serrai amico dell'ONU e dell'Italia l'altro la Cirenaica nella Cirenaica Tobruk e tante altre città che sono controllate al giornale Aftar c'è maggiore influenza francese mentre nella tripolitana c'è maggiore influenza italiana e nella tripolitana ci sono dei pozzi dell'ENI la Francia e l'Italia si stanno dividendo sul controllo della Libia in queste ore ci sono dei ribelli che si stanno rivoltando rispetto al leader della Tripoli e amico dell'Italia dell'ONU e si stanno rivoltando si sostiene con l'aiuto del generale Aftar amico dei francesi quindi ci sarebbe una lotta tra francesi e italiani per interposta persona e banda all'interno della Libia pensate un po' voi che casino in tutto questo quindi il peso che cosa ha portato 200 morti soltanto ieri l'aeroporto chiuso alcuni italiani che sono stati evacuati dall'ambasciata pare 25 dall'ENI e poi questo grande pasticcio libico di cui tutti si occupano quindi Battestini ci ha raccontato con facilità e semplicità questa contrapposizione seria, vera dietro la quale leggere anche tutte le polemiche tra Macron e Salvini gli interessi italiani in Libia storicamente sono completamente diversi da quelli francesi pensate un po' voi se gli italiani andassero in Nigeria a rompere le balle ai francesi che cosa succederebbe? Bisogna andare avanti, stupenda la questione che tira fuori oggi qualche giornale cioè che il rapper Medin, io non so come cavolo si chiami, quello che nel 2005 fece un disco che si chiama Jihad e beh che cosa fa il rapper Medin che fa un disco che si chiama Jihad? Va a cantare al Bataclan, io dico se questa è una cosa possibile e alcuni dei padri, genitori delle vittime del Bataclan, 90 morti, 90 morti hanno scritto il ministro della cultura francese dicendo ma ragazzi ma di che stiamo parlando? Ma proprio qua deve venire questo Medin con tutti quanti i teatri che ci sono a Parigi, l'uomo che ha scritto Jihad, un rapper islamista che lui stesso nega di esserlo ma comunque sia Jihad è un titolo che forse converrebbe non mettere un disco, non mi verrebbe di chiamare un libro Mein Kampf, adesso si parva licetto ovviamente. Circolare Sgomberi che è una circolare fatta al Ministero degli Interni Sacrosanta è stata ieri ribadita e rafforzata da Salvini quando dice una cosa molto banale dice la proprietà via gli abusivi anche se non hanno alternative a differenza di quello che diceva Circolare di Minniti e Salvini dice la proprietà privata è sacra, la proprietà privata è sacra, musica per le mie orecchie sentire che la proprietà privata è sacra, ovviamente Repubblica e tutti quanti i sinistri finalmente si ricordano di essere di sinistra e dicono che non va bene, che bisogna pensare a questi che occupano, è stato per tanto tempo il loro milieu culturale e questa è la differenza, dicono che c'è destra e sinistra, un po' tutto sommato in questo c'è, la destra liberale pensa che la proprietà sia sacra, la sinistra e liberale pensa che la proprietà sia collettivizzabile per tanti e diversi motivi, devo dire che un po' poi il governo deve fare pace con se stesso perché non sempre la proprietà privata questo governo la considera così sacra. Sulla vicenda c'è Repubblica che si scatena, gli altri giornali un po' meno, l'Occhieri ovviamente super condivisibile, oggi approva la circolare sugli scomperi sul giornale appunto. Poi sapete, se poi tu leggi che il Corriere della Sera Gramellini nei giorni scorsi ha come mito del rilancio della sinistra questo Ivano, oggi vi leggo, vi leggete, vi prego il ritratto di Ivano su Repubblica, uno ex lotta continua, ex rifondazione comunista, consigliere di Marino che urla fascisti a quelli che non vogliono gli immigrati a Rocca di Papa ma che questo fascio, fascio, fascio era convinto sin da ragazzino tutti fasci. Oh fascio a me, ma se so comunista così, avete presente, perdone? Ecco, quello è Ivano e se la sinistra pensa di salvarsi, Gramellini pensa di salvare la sinistra con Ivano, beh in bocca al lupo, o meglio no, insomma rimarrete in quella roba lì per i prossimi 50 anni. Sugli appalti pubblici, e questo è il titolo di Repubblica di oggi ve lo segnalo, saranno esclusi a vita i condannati per corruzione, proposta di buona fede ma anche secondo me di buon senso. Se uno è stato corrotto per aver corrotto un magistrato, un giudice, un appaltatore, un ministero fino al terzo grado, cioè proprio Cassazione è corrotto, beh insomma almeno gli appalti pubblici non li fare più, no direi, mi sembra, l'idea che venga escluso a vita non dal consesso civile, non da circolare, non da fare gli affari suoi, ma insomma dagli appalti pubblici forse ci sta, anche se su questo un supplemento di indagine verrebbe la pena di fare. Appuntamento come sempre domani con la zuppa di Porro, sito nicolaporo.it, se vi piace condividete e ci vediamo più tardi. Ciao!